Trilogia Demuriana Ecco questo quadro, vediamo qui un muro bianco Un quadro di visione in due Su questo muro vediamo un quadro Vedete? E all'interno di questo quadro vediamo un muro Un tavolo con un cavalletto Dove c'è una tela Quindi sono tre quadri in uno Il prima e dopo, vedete, il passare del tempo Quindi c'è il muro bianco Poi diventa questo colore rosa Il quadro è lo stesso Prima questa cornice blu Poi diventa marrone col passare del tempo E anche all'interno di questa tela da verde Diventa gialla col passare del tempo Quindi sono tre quadri Qui vediamo un drapo Tre quadri in uno Trilogia Demuriana Ok? Ciao ciao